Ciao a tutti, in questo video voglio approfondire il simbolo dei tarocchi del matto. Allora, prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, il matto ha un nome, il matto appunto, ma non ha un numero. E' l'unico tra gli arcani maggiori, che sono 22, però numerati fino al 21, diciamo così, perché il 22 non ha numero, diciamo così, il matto non ha numero. Ed è quello che è un po' il jolly, diciamo così, che poi nelle carte popolari ha assunto il ruolo di jolly o di joker nelle carte tradizionali. Il matto rappresenta la follia appunto, la pazzia, e quindi rappresenta di fatto la libertà, di fatto rappresenta energia. Il matto non è, diciamo, per così dire inquadrabile, è l'imprevedibilità. È una carta che dà sicuramente energia, approvvigionamento di energia. Il personaggio del matto, diciamo, cammina con passo risoluto, però guarda in alto, quindi lo sguardo non ci dice dove esattamente va, quindi non si sa che strada sta facendo. Il matto va un po' così a caso e subisce, tra l'altro, gli attacchi, diciamo così, di un cane, un lupo, insomma, che gli morde le gambe. Ha un bastone, cioè tiene un bastone in mano e ha un, come dire, un altro bastone dove ha un contenitore dove trasporta qualcosa. Probabilmente quello che trasporta sono i suoi talenti. Il matto rappresenta simbolicamente l'eterno viaggiatore che cammina per il mondo senza costruire dei legami, senza avere una meta precisa, senza avere una nazionalità precisa. Potrebbe essere un pellegrino, potrebbe essere una persona che si sposta. Non si sa, diciamo. Molti dicono che cammina verso la distruzione. Però il matto è anche una creatura libera da ogni necessità, da ogni complesso, da qualunque giudizio e da qualunque divieto. Il matto non rispetta i divieti, proprio perché matto rappresenta la libertà. E quindi, da un certo punto di vista, potrebbe essere anche un illuminato che si muove nel flusso di energia con una forza liberatoria incommensurabile, diciamo così. Si trasporta questo fardello, diciamo così, sulle spalle e questo fardello, diciamo così, illuminato da una luce gialla viene utilizzato da un bastone, viene portato con un bastone e di fatto alcune interpretazioni sostengono che all'interno ci siano i suoi talenti che non sono ancora stati sviluppati, ma sono allo stato embrionale. Possiamo dire che il matto, da un certo punto di vista, rappresenta quasi una cellula staminale. è il, diciamo, è l'esperienza ancora allo stato primordiale, allo stato primitivo. Il matto potrebbe essere anche un personaggio musicale, dato che i suoi abiti sono adornati da campanellini. Potremmo immaginare, diciamo, il matto che suona una musica, quindi ha anche l'estro, ha anche l'estro, quindi l'arte, la creatività. C'è un animale che lo insegue e che gli appoggia le zampe sulla colonna vertebrale, potrebbe essere un cane, però appoggia le zampe proprio nell'altezza del perineo, dove, secondo la tradizione, diciamo così, buddhista, ma la tradizione orientale, anche la tradizione induista, si trova il primo chakra, chiamato chakra segreto, per la tradizione induista, o muladhara chakra, chakra della terra, per, diciamo, per la tradizione induista. quindi il matto, se fosse un cieco, ad esempio, sarebbe guidato dal suo cane, che va con lui. Il matto è un visionario, diciamo, che guida, lui, il cane, da un certo punto di vista, che riesce tranquillamente, comunque, a domare, a domare un po' la sua aggressività. Il vestito del matto è rosso e verde, che rappresentano il mondo animale, la vita animale e la vita vegetale. Ha le maniche azzurre, che indicano l'azione, simboleggiata dalle braccia, un'azione, però, l'azzurro è un simbolo spirituale. Vediamo un attimino come può essere interpretato il simbolismo, come può essere interpretato il simbolismo del matto. Allora, il matto, possiamo dire che evoca un'energia, un impulso di energia. Dovunque vada, porta con sé questo impulso vitale. Quindi, in realtà, la carta del matto è una carta di potenza, è una carta di energia. Rappresenta anche, però, diciamo, una liberazione, una fuga, una fuga dal mondo immanente verso il mondo trascendente. È la scelta indifferenziata, la scelta di potenza. Il matto rappresenta anche la follia, la leggerezza, le scelte avventate. Rappresenta anche un viaggio, un pellegrinaggio, la forza che si muove. Diciamo, questa carta trasferisce energia, trasferisce energia e l'energia si diffonde, diciamo, in tutte, in tutte le situazioni. Questo è il simbolismo del matto. Il matto induce a non temere di liberare l'istinto, non temere di superare la razionalità, il che non significa rinnegare la logica, rinnegare la razionalità, però mantenere aperto un canale, diciamo, verso altre dimensioni. Mantenere aperto un canale verso la parte spirituale, la parte trascendente, cioè essere un po' folli da questo punto di vista. Il matto è quasi come se si muovesse in uno stato di trance, in uno stato energetico, diciamo. Quindi, riassumendo, questa carta può essere interpretata in diversi modi, come un viaggio, come un cammino lungo, ma anche come una follia, un vagabondaggio, una fantasia sfrenata, ma anche però come la gioia di vivere, la liberazione, un pellegrinaggio, una persona senza fissa di moro, una persona avventata, una persona emotiva, un buffone, un saltimbanco, un nomade, un emigrante, ma anche comunque il bisogno di agire, la potenza, la vitalità, l'idealismo. Non è un pensiero realista quello del matto, quello del matto è un pensiero idealista, quindi un pensiero collegato al trascendente, quindi è un'energia divina, è un apporto di energia. Il matto, diciamo, rappresenta anche una liberazione, una fuga, un allontanamento, un superare la razionalità. Ecco, questo è tutto più o meno quello che rappresenta questa carta, questo simbolo, quest'arcano, che è uno, un arcano veramente molto, molto interessante. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!